Gli operatori di strada sono pronti a scendere in campo contro il disagio. Ha infatti preso avvio ad Arezzo il progetto delle unità di strada, una forma di intervento già attiva e contraddistinta dall'azione degli operatori dell'associazione DOG, rivolta e senza fissa dimora ai giovani coinvolti in situazioni di disagio legate ad esempio al consumo di alcol. È un presidio per la città e nella città che si dedica in particolare all'analisi di un disagio giovanile che si declina in un disordinato abuso di sostanze stupefacenti e di alcol che intendiamo combattere con tutti gli strumenti. Le uscite settimanali in programma sono almeno tre, per ciascuna gli operatori coinvolti saranno almeno due. Le sentinelle opereranno ad indicatore a Saione ed infine nel centro storico a Retino. Il lavoro di strada non è un lavoro che viene strutturato preciso dall'inizio, appunto c'è una fase di osservazione che si chiamiamo mappatura, poi si incominciano i rapporti con quella che è la nostra utenza e via via insieme a loro poi in qualche modo si deciderà che azione fare. Il progetto è già iniziato da due settimane, i primi risultati sono ottimi già su indicatore dove già abbiamo un gruppo whatsapp di ragazzi, su Saione dove già abbiamo incontrato parecchie persone del comitato sicurezza di Saione e anche altri cittadini e soprattutto nel centro città dove le prime mappature stanno dando dei risultati veramente soddisfacenti per poi dare dell'indicazione all'amministrazione comunale e fare delle microprogettazioni in futuro. Grazie Grazie